Oggi mangiamo in un posto dove ci sono i gatti che girano, naturalmente i vegani, no? Sono i gatti, vedete? Amore, senti l'odore dietro i mici tu? Piccolo! Com'è l'uso? Questo dice se è pieno di gatti qua. Fanno le patatine fritte. Ah, ecco. Mangiare i gatti nel ristorante dei gatti. Vegan. Aspetta! Chissà perché finiscono tutti con annusare la mia giacca così. Aspetta! Aspetta! Ti avrei lasciato Heidi? Aspetta! Anusare anche il tuo zaino, la mia giacca, ragazzi. Gatti a miliardi. In vetrina ci sono i tiragraffi. Vedete un po'? Cucette, tiragraffi, il regno dei gatti. Ciao! E sei il più figo te? Piccolo! Interessantissimo? Paola! Paola! Hai la stilagraffi? Forse mi ha la stilagraffi. Forse ce la fa. Eh, che roba! Atletica! Dai, guarda che buona, guarda! Ma che buona che esibizione! È dita avvantesa? Guarda! Oh! Che roba! Tutti qui i telefoni su! Tutti qui i telefoni su! Mi ha la stilagraffi. Io faccio cose ovvie. E poi non le posso. Paola! Hai la stilagraffi? Forse mi ha la stilagraffi. Forse ce la fa. Eh, che roba! Atletica! Dai, guarda che buona, guarda! Ma che buona che esibizione! È dita avvantesa? Guarda! Oh! Che roba! Tutti qui i telefoni su! Tutti qui i telefoni su! Quattro cose ovvie! E qua non le posso.